Come spesso uso dire in maniera scherzosa durante i miei corsi sulle tecnologie didattiche, noi oltre ad essere docenti siamo mamme, papà, compagni con una nostra vita privata, quindi è bene sfruttare il più possibile metodi e strumenti che evitino di farci perdere tempo lavoro e che ci aiutino a rendere più efficace la nostra azione docente, dalla progettazione della didattica, alla produzione di appunti, alla correzione dei compiti, al recupero in itinere dei nostri allievi, insomma rendere le azioni del vivere quotidiano del docente meno stressante e più efficiente. Le tecnologie possono darci un grande aiuto in tutto ciò, però è essenziale imparare a usarle e l'idea di questo corso è proprio quella di fornire uno starter kit, ovvero una collezione di strumenti di base e di partenza che possa rispondere ad una serie di domande. Ad esempio, come imparare ad imparare l'uso delle tecnologie didattiche? Dove posso trovare esempi sulle tecnologie sviluppate da altri docenti? Come posso gestire al meglio il tempo lavoro per potermi formare sull'uso delle tecnologie? Esistono degli strumenti che mi possono aiutare in tutto ciò? Dove trovo degli esempi pratici che posso studiare e applicare nella mia classe immediatamente? A queste e altre domande tenterò di dare una risposta tracciando un percorso che potrà essere rimodulato da voi secondo le vostre necessità. Vi aspetto quindi al mio webinar. Grazie a tutti. Grazie a tutti.